Siamo con il maestro Gettano Russo, direttore artistico della nuova orchestra Scarlatti per la dodicesima edizione del Festival Barocco. Sì, Festival Barocco è, nel senso che noi proponiamo musiche di periodo barocco ma che ci danno anche spunto per arrivare oltre il periodo barocco stesso ma anche ai nostri giorni. E si svolge a San Lorenzo Maggiore come del resto le altre edizioni e è un appuntamento che torna ogni anno di questi tempi e c'è un pubblico di affezionati sia napoletani, campani e c'è molta presenza, c'è stata sempre molta presenza di stranieri che sono a Napoli nel periodo in cui si svolge questa rassegna. Siamo alla dodicesima edizione, abbiamo cominciato nel 96, qualche anno l'abbiamo saltato, per un appuntamento musicale di questo tipo riteniamo che sia già un grande vanto questo di poter dire siamo alla dodicesima edizione. Si parte il 20 maggio, si conclude il 14 giugno, quattro appuntamenti? Sono quattro appuntamenti, gli altri anni li abbiamo realizzati tra giugno e luglio, quest'anno capita con maggio e allora abbiamo immaginato di dare una maggiore possibilità di realizzazione di spettacoli, quindi stiamo dentro alla settimana fino al mese di maggio. Con l'ultimo appuntamento che è il 14 di giugno e di domenica, tra l'altro è anche incastrato tra le varie attività che l'orchestra svolge in questo periodo in Italia e in più città italiane oltre che Napoli. Appuntamenti alle 19, che tipo di musica offrite al pubblico? Allora, la musica è quella parte dal barocco di Endel, quest'anno è il 250esimo, diciamo è l'anno endeliano, Endel in Europa e Endel a Napoli, Endel partenopeo. Si svolge alle ore 19 nei giorni preannunciati e poi è l'occasione anche per dire che è stato sempre l'assessorato al turismo del Comune di Napoli ad aver finanziato in parte questa rassegna.